Allora eccoci con Argento e Bastianelli, due dei migliori in campo del Brasile e un commento sulla gara, cominciamo da ragazzo qui a sinistra, vai Argento. Abbiamo fatto una bella partita, poi venivamo dalla sconfitta la settimana scorsa e volevamo far vedere che eravamo, abbiamo fatto una buona partita, è importante da vincere, abbiamo sia giocato bene che vinto. Infatti avete giocato bene ma soprattutto siete entrati in campo molto concentrati, quindi da subito a volere mettere al sicuro la partita, non so se siete lo stesso avviso. Sì, nei primi minuti abbiamo fatto il gol, però non siamo entrati guardate la testa giusta, poi al secondo tempo siamo riusciti a fare il gol per chiudere questa partita, niente, forza Villaggio! E dai!